da pisa il 29 di agosto 2011 note della collezione spin 2000 pippo chissà se lo sa e pippo pippo chissà se lo sa pippo civati il democratico rotta amator la rotta da mare e il rotta mare motorini e motociclette ben al di sotto di euro 4 ed in prospettiva rotta mare tutti i motori diesel che ci stanno sui coglioni sostituibili con motori elettrici alimentati in concelle all'idrogeno idrogeno di scambio al fine avere accumulabili in serbatoi con microtubuli 27 c 28 c microtubuli di carbonio serbatoi di accumulo dell'idrogeno di scambio intanto portare il cracking catalitico del petrolio fin l'idrogeno e recuperare tutti i fumi di scarico ed evitare l'assurdo inquinamento con odori disgustosi vicino le raffinerie come quelle di livorno e sapere ripiantare tanti alberi e piante così avere profumi e fiori e dai fiori di sapere riproporre al sindaco renzi il sindaco matteo di firenze la rotta da mare e quella di ponte vera ponte di eone ponte di epoca e nelle fornaci produrre tegole tradizionali similtradizionali che siano fotovoltaiche e termiche e tante soluzioni ecologiche che rispetti tutte le età perché in forma l'antica si vive bene e l'antica ci informa e ci informa con la sua forma genitoriale ci fa sapere cosa è meglio fare e reinformiamola sul futuribile il futuro sostenibile e noi con grande serietà continuiamo a dire che c'è da insegnar maieuticamente e da noi stessi tutto quello che c'è da sapere grazie